Ci ritroviamo qui ormai di consuetudine a questo splendido appuntamento per dare il via all'edizione dell'ATP Challenger che ormai alle porte sta davvero arrivando, un'edizione che colorerà in assoluto di giocatori internazionali la settimana che va dal 3 di luglio fino al 12. Il saluto mio e del circolo e del consiglio direttivo è soprattutto rivolto a chi ci consente per l'ennesima volta di organizzare questo evento, quindi alla Carisa, alla Cassa di Spammi di Ascoli di Ceno, a Comune e alla provincia di Ascoli di Ceno. L'entusiasmo quest'anno è quanto mai alto perché la nostra lista, la lista dei giocatori, prevede un cut-off, cioè una chiusura del ranking dei nostri giocatori, quella del 270 al mondo. Vale a dire che il 270 al mondo è il peggiore dei giocatori che noi avremo modo di vedere qui nei nostri campi da tennis, quindi visto che abbiamo parlato dell'ultimo in classifica, adesso chiaramente vi presento il numero 78 che è lo spagnolo Pere Riba. Il numero 78 sarà la nostra testa di serie numero 1, affiancata dalla testa di serie numero 2 l'italiano conosciutissimo Paolo Lorenzi che viene da una stagione davvero ricca di entusiasmo, ricca di vittorie e di grandi avanzamenti nel ranking internazionale. Aprire un torneo di tennis del nostro livello, vale a dire con montepremi di 30.000 euro, con il numero 78 del mondo, è per noi veramente un grande traguardo. Quindi essere riusciti ad avere una panorama di tennisti così importanti per noi è sicuramente un motivo di grande lustro. Do alcuni nomi, soprattutto quelli dei terraioli italiani, che sono Paolo Lorenzi, appunto il numero 95 del mondo. Parliamo anche di Alessio Di Mauro, Daniele Bracciali, parliamo anche di Stefano Galvani, nomi ormai altisonanti nel panorama della terra rossa italiana. Vi do l'appuntamento chiaramente qui dal 3 all'11 luglio, vi ricordo che l'ingresso è gratuito, quindi chiunque potrà accedere ai nostri campi da tennis e soprattutto dalle ore 17 del pomeriggio ininterrottamente fino alla mezzanotte troverete i migliori match nei nostri campi da tennis. Quindi l'appuntamento, ribadisco, è dal 3 all'11 luglio qui al Circolo Tennis e Maggioni. Grazie.